La Chiesa è davvero viva se formando un solo essere vivente con Cristo e portatrice di vita, e materna e missionaria, esce incontro al prossimo, sollecita a servire senza inseguire poteri mondani che la rendono sterile. È la riflessione che Papa Francesco ha offerto ai partecipanti alla 68esima settimana liturgica nazionale sul tema «Una liturgia viva per una Chiesa viva». Dopo aver delineato i passi compiuti in questo orizzonte dal Concilio Vaticano II fino ai nostri giorni, il Pontefice ha precisato che c'è ancora da lavorare, in particolare riscoprendo i motivi delle decisioni compiute con la riforma liturgica, superando letture infondate e superficiali, ricezioni parziali e prassi che la sfigurano. Di qui ha poi approfondito tre punti riguardo alla liturgia, che è vita per l'intero popolo di Dio, che non è una semplice idea da capire e che deve essere radicata nel Figlio di Dio. La liturgia è viva in ragione della presenza viva di colui che, morendo, ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato la noi la vita. Senza la presenza reale del mistero di Cristo non vi è nessuna vitalità liturgica. Come senza battito cardiaco non c'è vita umana. Così, senza il cuore pulsante di Cristo non esiste azione liturgica.